Tra mercoledì e giovedì sono previsti pioggia, forti temporali e grandine sulle Alpi, una pausa dall'AFA di questi giorni che però sarà breve, poi una nuova ondata di caldo rovente è attesa nel fine settimana con Padova che insieme a Roma, Firenze, Bologna, Pavia, Mantua e Ferrara arriverà a toccare i 39-40 gradi. Come sempre d'estate il grande caldo provoca un aumento dei malori come viene registrato dalla centrale operativa del Suom 118 di Padova. C'è stato momentaneamente un lieve incremento di quello che sono gli interventi di soccorso legati alle patologie da calore che fortunatamente, incrociamo le dita, per il momento non ha impattato in maniera significativa su quella che è l'operatività di tutta la centrale operativa. I consigli per tutti, in particolare per le categorie più fragili, sono sempre i soliti e non è mai banale ripeterli. Attenzione per le categorie più fragili, che lo ribadiamo, sono le persone anziane, dove per anziani intendiamo persone insomma sopra i 75 anni di età e bambini, soprattutto tra i 0 e i 4 anni, più ovviamente pazienti ipertesi, diabetici, pazienti che hanno problemi renali, patologie venose o patologie croniche che richiedono un'importante terapia farmacologica continuativa. Quindi questo assolutamente sono le persone che devono adottare un'attenzione maggiore. Le attenzioni che le ribadiamo sono quelle ovviamente di non uscire nelle ore più calde del giorno, quindi soprattutto le ore centrali e idratarsi molto, soprattutto le persone anziane, non aspettare di avere ovviamente sete, ma bere in maniera continuativa anche poca quantità durante tutto l'arco della giornata.